Vorrei mangiare sempre cibi buoni e sani, andare in un mercato dove ti raccontino la storia dei prodotti e di chi riproduce, dove si possa anche incontrare i produttori perché i cibi sono più buoni se si conosce chi li fa e come li fa, dove capire come riconoscere i cibi di qualità e apprezzarne tutte le caratteristiche. Non sono un luogo dove fare la spesa, ma dove si possa imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. A te non piacerebbe? Tutto questo esiste già e lo puoi trovare da Italy. Mangia bene, vivi meglio! Grazie a tutti!